Oggi Bad Wars su Waracademy, lasciate like, commentate, boh, ci divertiremo moltissimo oggi ragazzi Ho fatto una partita prima e mi hanno fatto tutto nero Già Allora siamo con RageNout che è un pro Sei uno youtuber? A quanto pare Vai Reneout No, non con il legno, non il legno Perché il ponte con il legno? Ma perché? Ma dove hai imparato a giocare? Dove hai imparato a giocare, non io È chiaro ragazzi, è chiaro, è chiaro Madafuck Mettiamo le cose in chiaro Cosa ci fai con la spada in diamante? Ok, io di sotto un blocco Non capisco l'utilità, però l'ho fatto lo stesso Ok, sono morti entrambi, va bene Ma cosa serve piazzare sti blocchi inutili? Piazzare sti blocchi inutili? Piazzare sti blocchi inutili? No Vabbè È colpa del mio compagno di giochi Non è colpa mia Allora, prossima partita Stepney Perfetto Allora, l'unico kit che ho è quello Ragazzi, salutate Siete in tv Su Rai 5 Che canale Dunque, in questo momento c'è questa roba qui Su Rai 5 Rossini 1868 E sta roba qui Quindi Vabbè, essendo che ho la skin nera Io sono lo sfondo Evviva, siamo con Futurs Credo si pronunci così Oppure Futurs Però credo più Futurs È più figo come nome Dunque, allora Senza cascare di sotto Perfetto Là c'è un bellissimo letto Che non ci arriverò mai Probabilmente Però rip Vai vai Pikachu Vai vai, scassa tutti Ok, non mi ha visto Va bene così Va bene così ragazzi Va bene così È già una vittoria questa Ok Una la skin di Stephanie Continuo a hitarlo È tornato su con Axe Ah ok Credevo che Axe fosse un player Non Hack Intanto che faccio Questo ponte Dimmi che video vorreste Vedere sul canale O Anche tipo Challenge Di Di sta roba Tipo Non uso la spada Uso Non lo so Roba di questo genere Tipo non uso la spada Il piccone I blocchi Non lo so Qualcosa così Fatemelo sapere nei commenti È l'idea più Più fattibile Anche quella meno fattibile Proverò a farla Se non ci riuscirò Apprezzerete Lo sforzo Cioè mi auguro Almeno quello E Boh Vediamo Di distruggere Questo letto Con scarsi risultati Ma dov'è il letto No Vabbè Adesso arriva la gente Quello lì si è bloccato in aria Va bene Niente Quella cosa che ho lanciato Non è servita Assolutamente a niente Perfetto Oh buongiorno No Il team rose è stato distrutto Bravissimo Tu sei che sei forte Vi invito a scaricare il mio pack L'ho trovato in descrizione Questo qui che sto usando È bellissimo E Boh Tanto per dire qualcosa Vieni giù se hai il coraggio Ma certo che ho il coraggio Cosa credi Io c'erò il coraggio Sono il più forte E ti scasso il letto Ah non mi è toccato Chi è il più forte Chi è il più forte Eh 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 Buongiorno anche a te Oh cos'è successo Perfetto Troppo forte Prendo anche i tuoi diamanti Spero di non cadere Va bene Va bene No il mio letto Cos'è successo il knockback Nooo Ah però Va bene Va bene così Va bene così Va bene Quindi ragazzi Questo qui era il video Era pieno di emozioni Spero di ditarlo in qualche modo Più carino Sennò fa davvero schifo E Boh Per questo video è tutto Noi ci vediamo Dopo Cioè dopo intendo Suppongo che chiudete questo video E ne guarderete un altro Spero sia così Dal nero invisibile è tutto Noi ci vediamo In un altro video Bello Ciao